Ti irriteranno un po' gli occhi all'inizio. L'importante è non muoversi troppo veloci. Ti siedi su una poltrona, accavalli le gambe. Magari un po' più lentamente. E ogni tanto batti le palpebre. Bene. Per un personaggio dei cartoni? Trattieni il fiato. Ti aiuterà con la sete. Però continuo a sollevare le spalle, così sembrerà che respiri. E non sedere così dritta. Gli umani non lo fanno. Va bene, ho capito. Mi muovo, sbatto gli occhi e mi siedo. E non lo fanno. Ma... Grazie a tutti